Lavoratori, ricordatevi il primo maggio di far festa. Così invitava un volantino di ispirazione socialista diffuso a Napoli nell'aprile del 1890, all'epoca delle prime rivendicazioni sindacali sul diritto a non superare le otto ore di lavoro al giorno. Domani a Napoli la manifestazione dei sindacati confederali CGL, Cisle e Will si svolgerà a Bagnoli, nei pressi di Città della Scienza, per richiamare l'attenzione sull'urgenza di ricostruire il museo distrutto nel marzo scorso. Dalle 16 alle 24 un concerto pubblico in cui si alterneranno fra gli altri Tullio d'Episcopo, Raiz e Fulvio Mesolella, Leorme, Iosanna, Mbarca Bentaleb, Ciccio Merolla, Marco Zurzolo. Alle 15, sempre a Bagnoli, in dissenso con l'evento dei sindacati confederali, un corteo promosso dal Laboratorio Politico Iscra e da altre associazioni sfilerà rivendicando una maggiore tutela dei diritti dei lavoratori precari e dei disoccupati. A Chiaiano, infine, la rete Commons per i beni comuni organizza una manifestazione incentrata sulla tutela dell'ambiente e della salute. In mattinata un mercato biologico a filiera corta, nel primo pomeriggio musica e danza col gruppo folk degli Zezi. Alle 18 un confronto pubblico sulla difesa del territorio dai veleni inquinanti, con Serena Kaiser della Rete Commons, Tommaso Sodano, assessore all'ambiente, Salvatore Micillo, deputato 5 Stelle e Peppe De Cristoforo, senatore SEL.